Prima un'altra! Buono, però metti il secondo colpo là, gira un po', gira un po', stare fermo su piedi, gira eh! Gira un po', gira un po', gira un po', gira, gira, fai andare un po' a vuoto, muoviti un po', no, ho messo i due colpi, ho messo i due colpi, tu devi mettere sempre il colpo dopo di te, ho messo i due colpi e continui a girare, no, devi mettere più colpi quando vai a scambiare, continua a girare, muoviti! Gira un po', muoviti su piedi, muoviti! Buo dai! E' salto! Porta! Aggettivo, aggettivo! Buo dai! Hai di finta un po', muoviti con i piedi! Gira un po' le mani! Giri su le mani! No, muoviti su piedi! Buono, 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 vai! E' salto! E' salto! E' salto! E' salto! E' salto! Andati! niente qua, puoi lavorare col pugno destro al corpo, oppure liberi la testa, se vuoi puoi anche passare, guarda lui ha aperto le gambe, puoi passare, non proviamo a cosa avventare, puoi fare quello che vuoi da qua, attento se stai a prendere le gambe, manca meno di un minuto eh, no, chiudi tu, lo tira a muovere, lo tira a muovere, 30 secondi, già è più prohead tutto, puoi fare eh, va la gamba, attenziamo con ilgrhood, ok, sbagliate l'alberespre 10 secondi eh, ok bravo, ok bravo, tirate un po' giù, terzi secondi lo strafare barbara possiamo tenere qua e ci prende un po' di teatro qui fino a 45 minuti a destra a destra attento ora, lavora bene lavora bene lavora bene forza dai che lo sai forza forza esatto lavora bene qui ora 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 continua a girare se vuoi metterlo qui spima le mani eccolo qua bravo questo è un buon lavoro non stare vicino alla cabbio bravo buono lo devi portare a spasso eh Barbara portala a spasso io ti seguo eh portala a spasso bravo ok già sopra la dobbiamo fare questi calci o lo blocchi e li metti lo qui un minuto è passato finta un poco ti muovi bene ok portate bene vai via no bravo continua a girare voglio che sei mobile elusivo metà mettilo vicino alla parente perché se quello vuoi piscillare ora esatto vai 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 lo devi piscillare bravo muovi la testa e pizzicalo muovi la testa e pizzicalo forza dai lo puoi fare ok ok non rientro esci da qua benissimo bravo continua a fare questo lavoro manca un minuto continua a pizzicarlo forza bravo e esci da qua poi esci 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 meglio su direttore tre vicino stai abbassando le mani è buona pizzicalo lo devi dire stai arrelingando tra poco mancano 10 secondi barbara 10 secondi ok continua a farlo forza che ci sei vai terzo navi vai vai a tre va bene ci sta accattando la vita e noi lo recidiamo e noi lo recidiamo e noi lo recidiamo bravo forza vabbè e no partiamo destro e qua ce la veste e qui oh è bravo però voglio che lo pizzichi devi trarre l'inganno ok finisci vabbè forza vai dalla guardia ti ho tirato a mo' ti ho tirato a mo' forza vai vai forza ma credi dai dai un minuto è passato barbara me lo devi pizzicare di più adesso devi andare a lavorare tu adesso lavori un po' più tu no adesso devi stare a lavorare guarda guarda adesso devi stare a lavorare ok iniziamo a lavorare dai dai vai barbara ora prendevo tieni su le mani e lavora no voglio che rispondi là voglio che... o metti il blocco rispondi bene bene ok continuo andiamo a pizzicare di nuovo andiamo a pizzicare di nuovo c'è la metà c'è la metà rama forza no vai dai su vai dai 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 ti ha messo il colpo motocca a te ok metti prima le mani però qualche prima forza 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 attivo 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 metti giù per manca un minuto con voi dai barbara stiamolo ancora forza Barbara diamoci questo minuto pure 30 secondi ok ok i tempi abbiamo lavorato ore ore da questa posizione 15 un applauso può colpire come vuole non col ginocchio forza Angelo col ginocchio al corpo i tempi la voglia diague a me a me a me a me a lui a No! 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 No!